Coppa America Suddivisione dei gironi Risultati e partite Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Benvenuti a questo match della fase a gironi È una partita importante, pesante Vedremo che approccio avranno le squadre alla gara Deve essere un approccio perfetto perché conta ogni singolo punto Le squadre devono stare attente anche se è concesso sbagliato È tutto pronto per questo match tra Canada e Uruguay Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa Il tecnico ha preferito non sbilanciarsi E la scelta è stata il 4-5-1 Che dire Piero? Aspettiamo di vedere come si evolverà il match Prima di dare un giudizio Questa è la formazione di partenza dell'Uruguay Che ci mostra la grafica Il loro piano tattico abbastanza chiaro, semplice Quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo Che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol Il pistolero, gran palla in mezzo Occhio qui a Suarez Suarez Ci sarà calcio all'angolo per l'Uruguay Sceglie l'appoggio Palla sul primo palo Risultato che si sblocca subito dunque Grande partenza Hanno sorpreso la difesa avversaria Attaccando fin dai primi minuti Pazzesco Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara Bel gol, certamente Ma ci sono anche le responsabilità della difesa Hanno battuto benissimo l'angolo Si è capito subito che era un pallone pericoloso Possiamo apprezzare meglio il gol Visto anche da un'altra prospettiva Palla nuovamente in possesso E c'è il tiro Una bomba Ma il portiere c'è Palla che finisce in angolo Esultano i tifosi Quasi come un gol Sanno che non sarà facile oggi Può correre lungo la fascia Cross in mezzo C'è la sola potenza in questo tiro Occhio al corner Attenta qui la difesa Occhio qui a Suarez Attenzione a Suarez Palla verso Cavani E c'è il gol del matador Cavani Ha sfruttato veramente al meglio questo cross Sì, ha scelto bene il tempo L'ha messa dove voleva Possiamo apprezzare meglio il gol Visto anche da un'altra prospettiva Occhio attraversone Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì Stefano Sembrava impossibile E l'ha mancata anche di parecchio Pierre Peccato perché la potenza c'era I tifosi che hanno ripreso fiato Ci credono Vogliono il gol del meno uno qui Cross verso il centro dell'area Tutto facile qui per il portier E dopo la fine della prima frazione Dunque 2-0 Squadra che tornano negli spogliatoi Stefano, la partita di Cavani Fino a questo momento ti è piaciuta In questi primi 45 minuti? Beh, prestazione di Rai Infiamente sopra la sufficienza Anche segnato Stanno vincendo Le cose possono solo migliorare È iniziata la ripresa di questa sfida Della seconda giornata della fase a Gironi Ecco Vessino Da lì può andare col cross Cavani Suarez Luis Suarez È arrivato il gol Un gol per ribadire ancora una volta La loro supremazia oggi Vantaggio che comincia a farsi imbarazzante Partita virtualmente chiusa La regia ci mostra nuovamente il gol Da un'altra inquadratura Termina qui la partita di Luis Suarez Come ti è sembrata la sua prova? Davvero buona La sua prestazione oggi Ha segnato il gol Che permette alla sua squadra Di condurre la gara Pallone Prova In porta Pronto a battere il calcio d'angolo Occhio al tiro della bandierina Ha provato a piazzarla Non la scelta migliore Finisce qui Con la vittoria dell'Uruguay Sconfitta che non può certo far piacere Quella rimediata oggi Anche se qualcosa di buono Mi pare si sia pure visto in campo Sì Sono arrivate comunque indicazioni confortanti Da alcuni elementi Dovranno ripartire da qui Se vogliono tornare a far sorridere I propri tifosi Se farò come giurichi La prova odierna di Luis Suarez Ha contribuito al successo finale Con una buona prestazione Con un gol La scelta migliore Benvenuti a questa nuova partita Dei Gironi di Coppa Da Piero Gipardo e Stefano Nava Ciao a tutti Il match di oggi vedrà opposte Stati Uniti e Paraguay Secondo impegno della fase a gironi Per queste due squadre Che ha appena preso il via Sono curioso di vedere Come l'hanno preparato i due allenatori Se decideranno di attaccare subito Se invece preferiranno adottare Un approccio più prudente Vediamo come scendono in campo I padroni di casa Si schierano in campo Con quattro difensori Ben cinque centrocampisti Molta densità in mezzo Partono con un solo attaccante I centrocampisti dovranno sacrificarsi A turno per supportarlo Ecco la formazione della squadra ospite Per questa sfida Adottarò una variante più offensiva Del classico 4-5-1 Con due centrocampisti In grado di trasformarsi In attaccanti aggiunti Sul ribaltamento A loro L'allenatore avrà chiesto di spingere Per dare manforte All'unica punta schierata Oggi in campo Prova a sorprenderlo Caceres Buona l'idea qui Opportunità Sanabria Hanno aperto le marcature Con questo gol E vedremo Se avranno altri spazi Per continuare a colpire Non credo sia finita qui Mi aspetto una reazione Versaria Dovranno sudare Se vogliono portare a casa la vittoria Intervento del portiere Che non è riuscito a evitare i gol Nonostante il tocco Aveva intuito la conclusione Palla che si è infilata Lo stesso in rete Gran palla in mezzo Sanabria A metri per andare Sanabria Palla che colpisce la traversa E torna in campo La rimette dentro Vantaggio Che comincia a farsi importante Due gol da recuperare Una per gli avversari E ancora presto Però per cantare vittoria E si fa dura per loro Anche perché Oltre a tentare Di segnare Devono fare attenzione A non subirne altri In presa Non facile Per quanto si è visto Finora Da lì Non poteva Proprio sbagliare Troppo facile Dovevano marcarlo meglio E dopo la fine Della prima frazione Dunque Due a zero Squadra che tornano Negli spogliatoi Ha disputato una buona prova Nei primi 45 Certamente fra i migliori Ha contribuito al risultato Grazie al quale La squadra è andata Al rifoso con un gol Può essere soddisfatto Fin qui Della sua prova È iniziata la ripresa Di questa sfida Della seconda giornata Della fase a Gironi Supera il difensore La traiettoria Verso il centro Ha sciupato tutto Da pochi passi Potevano dimezzare Lo svantaggio Avrà modo di rifarsi Non deve abbattersi Assolutamente Gli errori ci stanno Nel calcio Piris Attenzione Pericolo Gran palla dentro Efficace E qui il portiere Che concede qualcosa Anche ai fotografi E sarà calcio d'angolo Buona La lettura difensiva Che interrompe l'azione In un momento Gran palla in mezzo Attenzione Tutto solo Sanabria Attenzione E ecco il gol Ha finalizzato Nel migliore dei modi Una splendida Giocata collettiva In contropiede Gol a porta vuota Facile facile questo Hanno sfruttato Al meglio La situazione Di 2 contro 1 Col portiere E non gli hanno Lasciato scanto La regia ci mostra Nuovamente il gol Da un'altra inquadratura Ecco il triplice fisco Che mette Final match Portano dunque A casa La vittoria Gli altri Hanno avuto Maggiormente Il possesso E il pallone Ma poi L'incalcio Bisogna essere Concreto Ma dall'alto Della tua esperienza Sai che il possesso Palla spesso È una statistica Ingannevole Può davvero Essere soddisfatto Della sua partita Voti altissimi In pagella Senza dubbio Ha dato un contributo Decisivo Alla sua squadra Per il successo Con una splendida Doppietta Promosso Risultati E partite Per il successo 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 Per il successo